La Lucchese va a caccia dei tre punti con il Riccione, tre punti che mancano da 14 ottobre scorso quando i rossoneri sconfissero la spal per 1-0 al Portelisa. L'avversario però non sembra più la vittima sacrificale di turno. Dopo il cappottone subito il 30 settembre a Mezzolara, i romagnoli hanno gradatamente cambiato pelle sino a conquistare domenica a scorsa il primo punto della loro travagliata stagione. In meno di un mese la nuova società ha cambiato allenatore, Benedetti al posto di Valva, e tesserato 16 giocatori. Non che la qualità dei nuovi arrivi sia trascendentale, ma certo la squadra bianca-azzurra non è più l'armata branca-leone di prima. Detto questo, la Lucchese deve fare la sua partita senza guardare all'avversario. Innocenti, costretto a fare a meno ancora di De Vita, Lima e Chianese, e con il dubbio Redomi che in settimana si è allenato poco, potrebbe schierare uno spregiudicato 4-2-4 con Barretta laterale destro, la coppia Aliboni-Conti a centro campo e 4 in avanti con la prima in assoluto della coppia Brega-Canalini. L'alternativa, sempre che Redomi sia in grado di giocare, è la conferma del 4-3-3 con la rinuncia però ad una delle due punte. Sul match pesa anche la variabile pioggia, prevista abbondante per domenica, con il campo che potrebbe diventare una minaccia come 15 giorni fa con il Castenaso. Per cui, a meno di colpi di scena, la Lucchese giocherà con Casapieri, Barretta-Angeli, Aliboni-Carli e Specie, Gatto-Conti-Brega-Canalini-Pecchioli. Fisco d'inizio, ore 14.30.